Ciao a tutti! Sotto il video degli OGM al supermercato mi avete veramente fatto tantissime domande e quindi iniziamo oggi a rispondere a quelle più comuni. Ci tenevo però a ringraziare tutti i vari commentatori che hanno risposto loro a tutte le domande che avete posto sotto il video dove io non ho potuto. Trovo molto bello che questo canale stia diventando un luogo di discussione, un po' come Breaking Science. Iniziamo dalla domanda più gettonata. In tantissimi mi avete chiesto se l'uva senza semi è un OGM, molto spesso dandolo per scontato. Me lo chiede per esempio Valenesco45 che mi scrive ma l'uva pirena o qualsivoglia tipo di uva senza semi non è un OGM? Tanti altri come Paraisa e allora l'uva senza semi che trovo in un supermercato che cos'è? Fabio Cabrini mi dice stavo per scrivere la stessa cosa. Nicolò Vergassola chiede anche lui l'uva senza semi è OGM? Fa male a mangiarla? E Mattia Bertoldi chiedo per curiosità l'uva senza semi non viene considerata OGM? e così via Marco Masi ma l'uva senza semi che cosa è? Sinceramente mi sono stupito di questa domanda perché non pensavo che l'uva senza semi e in generale i frutti senza semi venissero percepiti da molti come OGM. Qualcuno ne è anche convintissimo e mi dice l'uva OGM esiste come? Quella senza semi così come qualsiasi altro frutto sterile. Un frutto senza semi in natura non avrebbe ragione di esistere e quindi sarà per forza OGM giusto? Beh il discorso sembra filare ma in realtà no. Le uve apirene, questo è il nome scientifico, sviluppano dei frutti senza semi per via di una mutazione genetica e questo succede per tantissimi altri frutti che noi troviamo al supermercato. Per esempio le clementine sono un incrocio presumibilmente spontaneo che è apparso per la prima volta in Algeria nel 1902 tra un mandarino e un arancio. Le arance navel sono un altro esempio. Tra il 1810 e il 1820 presumibilmente a Bahia in Brasile in una piantagione è apparsa una mutazione genetica che ha privato le arance di un certo albero dei semi. Hanno avuto subito un immediato successo commerciale, si sono diffuse in tutto il mondo e ora di fatto tutti quei milioni di alberi di questo tipo di arance o varianti come le Washington navel sono di fatto dei cloni di quell'albero originario. Navel, o navel come diciamo noi, vuol dire ombelico e questo nome si riferisce al caratteristico buchetto che hanno queste arance che assomiglia appunto a un ombelico. Ma come si propagano i frutti senza semi se sono sterili? Beh, è una domanda che per esempio mi avete fatto anche quando ho parlato delle banane. In molti mi avete chiesto come fanno le banane a riprodursi anche se sono sterili. Allora sono venuto qui nel giardino di mia mamma e vi faccio vedere le banane. Queste sono le sue piante di banane, sono i banani. Vedete che qui c'è il frutto con delle piccole bananine, solo che a queste latitudini non riescono a svilupparsi. Ebbene, tutte queste banane sono il risultato di una singola pianta che io ho portato anni e anni fa dalle canarie. Ogni anno, di fianco a una pianta madre, nascono delle piante figlie, dei polloni, che sono a tutti gli effetti dei cloni, sono tutte uguali. Vedete, accanto a una pianta madre è spuntato questo pollone. Questo è il modo con cui si possono riprodurre queste piante. Pur essendo sterili si prende il pollone, lo si stacca, lo si separa e lo si può ripiantare altrove. E questo è il modo con cui queste piante si possono riprodurre. Tornando all'uva si stima che almeno l'80% dell'uva da tavola coltivata al mondo sia ormai senza semi. L'esempio più noto e più antico forse è l'uva sultanina, ma ne esistono ormai tantissime altre varietà. Da secoli le viti si propagano con innesti, talee o altri metodi e non da semi, per cui non è un grande problema. E questo è soprattutto vero per le uve da vino, perché in una riproduzione sessuale nascerebbero delle viti che hanno delle caratteristiche diverse da quelle dei genitori, mentre noi quando produciamo un vino vogliamo cristallizzare, fermare, bloccare l'evoluzione a quel tipo di uva lì, che dà quelle caratteristiche. Quindi di fatto noi negli ultimi 200 anni abbiamo ucciso la biodiversità della vita, perché ci siamo fermati a determinate caratteristiche che non si sono mai più modificate. Solo occasionalmente qualche scienziato è riuscito a portare al successo commerciale qualche nuovo incrocio. Il più famoso, probabilmente, è il Müller-Turgau, che è stato inventato da un botanico di nome Hermann Müller del cantone svizzero di Turgau nel 1882, incrociando un vitigno Riesling con un vitigno Madeleine Royale. Di fatto nei vigneti di tutto il mondo sono piantati un sacco di cloni. La clonazione animale fa sempre molto parlare di sé, a partire dal primo animale clonato, che è stata la pecora d'oli nel 1996, fino a quello che è successo qualche settimana fa, con delle scimmie clonate da un gruppo di ricerca cinese. Beh, in realtà nel mondo vegetale la clonazione non fa più notizia, è una cosa molto molto vecchia, si utilizza dal punto di vista commerciale da tantissimo tempo, anche per i fiori, per esempio, che potete comprare in un vivaio, quindi per la produzione e la propagazione non c'è nessun problema. Ma c'è un problema per chi vuole inventare delle nuove varietà. E infatti mi chiede Federico Baccaini Io ero curioso di sapere come viene creata la frutta senza semi. Vediamo infatti che al supermercato ogni anno ci sono nuove varietà di uva, per esempio. Varietà che non esistevano l'anno precedente, ma addirittura a volte compaiono nuovi frutti senza semi. Pensate per esempio alle angurie. Come si producono? Si usano le biotecnologie. Ci sono varie tecniche. Per esempio per produrre le angurie senza semi, l'anguria originale, prima poi di essere clonata, si fa uso di una sostanza chiamata colchicina, che attraverso vari passaggi diciamo scombussola i cromosomi dell'anguria di partenza e porta a un triploide, ne abbiamo già parlato nel video dei grani. I triploidi producono frutti che sono sterili, sono senza semi. Ci sono altre tecniche come la fusione di protoplasti, che si utilizza anche per creare degli incroci tra specie che non sono sessualmente compatibili. E no, non stiamo parlando di OGM. Per l'uva si usa più spesso un'altra tecnica che si chiama Embryo Rescue, letteralmente salvataggio dell'embrione. Si produce un embrione in vitro che però non potrebbe svilupparsi, ma viene salvato e da cui poi si otterrà una pianta completa. Quindi per non aspettare delle occasionali e molto rare mutazioni genetiche che appaiono spontaneamente in natura come è successo per le clementine o le arance, gli scienziati hanno sviluppato tutta una serie di tecnologie per riuscire a ottenere frutta senza semi. Ce ne sono molte altre, per esempio è stato utilizzato, ma nell'uva non ha funzionato molto, l'irradiazione con delle radiazioni nucleari allo scopo di ottenere delle mutazioni genetiche. Il pompelmo rosa per esempio è stato ottenuto irradiando dei pompelmi per ottenere e stabilizzare la colorazione rosa caratteristica. Ora una tecnica quasi in disuso perché ci sono tecniche molto più precise, però una volta a partire dagli anni 50 in giro per il mondo c'erano questi grossi campi, vengono chiamati campi gamma, alcuni li potete trovare ancora adesso su Google Earth, per esempio questo è in Giappone, vi do le coordinate se volete trovarlo. Funzionano così, hanno un diametro che può arrivare anche a un chilometro. In mezzo al cerchio c'è una sorgente radioattiva che normalmente è sottoterra e quindi protetta. A distanza variabile si posizionavano dei semi o delle piantine. a un segnale prestabilito gli scienziati innalzavano la sorgente radioattiva, poteva essere cesio, cobalto o altre cose, e quindi le radiazioni andavano a modificare, danneggiare, diciamo mutare il DNA delle varie piantine messe a varie distanze. Chiaramente più la distanza dalla sorgente radioattiva era elevata, meno era l'intensità della radiazione. Dopo l'irraggiamento i semi venivano fatti germogliare e si vedeva cosa saltava fuori, si vedeva un po' l'effetto che fa, come diceva la canzone. La maggior parte dei semi irradiati non germinava oppure dava luogo a delle piante che sarebbero morte nel giro di poco tempo perché il DNA era stato danneggiato troppo violentemente. Però ogni tanto c'era qualche piantina che mostrava delle caratteristiche interessanti dal punto di vista agronomico e quindi veniva poi prelevata, propagata, diffusa, studiata. Ovviamente non è più radioattiva, non c'è più nulla della radioattività iniziale, che è servita solamente per generare delle mutazioni casuali nel DNA di partenza. Ne avevamo uno anche noi in Italia, alla casaccia, al centro ricerche che ora è Enea, all'epoca era il CNEN. Si può vedere ancora con Google Earth il cerchio appena accennato perché è stato smantellato ma potete verificare con delle fotografie dell'epoca. In quello del centro di ricerche è stato sviluppato per esempio il famoso grano creso. È un grano di cui abbiamo parlato molto a lungo nel libro Contro Natura perché girano una serie di leggende urbane su questo grano. Ma quindi tornando all'uva senza semi, alcune mutazioni genetiche nell'antichità hanno prodotto alcuni vitigni senza semi ma ormai abbiamo imparato a farli anche noi in laboratorio. Quindi per rispondere alle domande di Mr. Non Disponibile e Lentux, no, l'anguria senza semi e l'uva senza semi non sono OGM, ma sì hanno subito delle modificazioni genetiche. Confusi? Perplessi? Beh, il punto è che molte persone inconsciamente pensano che il termine OGM sia sinonimo di modifica genetica, mentre in realtà non lo è. Niente di quello di cui vi ho parlato è OGM. Non l'uva senza semi, non l'anguria triploide, non una delle varie migliaia di varietà che sono state ottenute, e ora sono in commercio, di vegetali ottenuti mediante mutagenesi da radiazioni. Allora possiamo arrivare alla seconda domanda più gettonata. Ma che cos'è un OGM? Me l'avete chiesto in tantissimi. Mattia Notarangelo mi chiede ma per quale motivo un prodotto che ha subito una modifica genetica esplicita non è considerato un OGM? Giuseppe Castaldo qual è la differenza tra modifica genetica e OGM? Lukeo qual è la definizione esatta di OGM? Angela Pesce mi chiede qual è la differenza tra modifica genetica esplicita e OGM? In contronatura per spiegare la differenza tra OGM e modifiche genetiche abbiamo usato le parole di un grande filosofo contemporaneo che forse alcuni tra i più grandi cieli di voi si ricordano. Sto parlando di Vujadin Boskov, storico allenatore della Sampdoria e di altre squadre, che solleva dire rigore è quando arbitro fischia. Ecco, potremmo dire che OGM è quando arbitro fischia. No, non è una battuta, non è una stupidaggine, vuol dire che la decisione, così come nel calcio la decisione di danno rigore, negli OGM a decidere che cosa è un OGM o meno è un arbitro. Cioè la definizione non è una definizione scientifica, ma una definizione puramente giuridica. E nel caso degli OGM l'arbitro è una direttiva europea, precisamente la 18 del 2001, che recita un OGM è un organismo diverso da un essere umano, per cui legalmente un uomo non può essere un OGM. Questo è importante perché, per esempio, già adesso ci sono dei bambini che a seguito di una terapia genica hanno dei geni che non avevano nel momento del concepimento. Quindi se non ci fosse questa esclusione, tecnicamente, legalmente, sarebbero degli OGM. Il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura, con l'accoppiamento e o la ricombinazione genetica naturale. Allora, questa è una definizione giuridica, non scientifica, sembra semplice, sembra chiara, sembra precisa, in realtà non lo è. Non vuol dire nulla ricombinazione genetica naturale. Abbiamo visto che in natura succede di tutto e di più, ci sono incroci tra specie diverse, l'abbiamo visto nel caso del frumento, ci sono mutazioni genetiche che appaiono spontaneamente, come per l'uva sultanina o per le clementine e così via. Per cui non è affatto chiaro cosa voglia dire ricombinazione genetica naturale. Ora, qualcuno mi potrebbe dire, sì, d'accordo, è accaduto in natura che la banana diventasse triploide, quindi non avesse più i semi, è accaduta in natura una mutazione genetica che ha trasformato le arance dall'avere i semi a senza semi, però, insomma, se io le faccio in laboratorio, puoi dire tutto, ma non che sia naturale. È verissimo, ma come al solito, fatta la legge, trovato l'inganno. Ma allora perché, mi potreste chiedere, quando compro una scatola di pasta non ci trovo scritta da grano ottenuto per il raggiamento, o quando compro una spremuta di pompelmo rosa non ci trovo scritto pompelmi ottenuti da mutazioni genetiche da radiazione, e così per le migliaia e migliaia di frutta e ortaggi e cereali che noi abbiamo spesso in casa. Per esempio, un terzo circa del riso che viene coltivato in Italia ha subito delle mutazioni genetiche esplicite, però nessuno se lo trova scritto in etichetta, magari ne parliamo un'altra volta del riso se volete. Beh, il motivo è che, se uno va avanti a leggere la direttiva, trova scritto che le tecniche elencate di seguito non sono considerate tecniche che hanno per effetto una modificazione genetica, cioè sono tecniche che alterano i geni e il genoma delle varie specie, altrimenti non riuscirei a fare delle modifiche, a ottenere l'uva senza semi, l'anguria senza semi, e così via, però legalmente non lo fanno. E tra le tecniche considerate, per esempio, vediamo l'induzione della poliploidea, cioè la modifica del numero di cromosomi, come è accaduto all'anguria. E poi troviamo la mutagenesi, cioè se io faccio una modifica genetica con delle radiazioni, ma si utilizzano anche agenti chimici e cose di altro genere, beh, io posso ottenere una pianta diversa, che ha una modifica genetica, ma che legalmente non è un OGM, cioè è una pianta modificata geneticamente, che però non è una pianta geneticamente modificata. Se vi sembra ridicolo, beh, lo è, ma questa è la legge. Quindi, come riassumeva Antonio D'Achille nei commenti, OGM è un termine legale, non è un termine scientifico. Tantissimi equivoci nascono dall'idea che OGM identifichi una classe ben definita di vegetali. Quindi, in pratica, solo le piante modificate con alcune tecniche, di fatto con quella che viene chiamata ingegneria genetica, portano a degli OGM, ma piante modificate con altre tecniche legalmente non sono considerate OGM e quindi non è, per esempio, obbligatorio segnalare nulla in etichetta, per cui potete trovare addirittura piante bio, che però hanno subito delle modifiche genetiche di questo tipo. La cosa più interessante però è che, mentre gli OGM sono strettamente regolamentati, e quindi prima di arrivare sul mercato è obbligatorio e, meno male, tutta una serie di controlli che durano anni e costano tantissimo, beh, per portare sul mercato un qualsiasi ortaggio, frutta e così via, modificati con delle radiazioni e con agenti chimici, non c'è praticamente quasi nulla da fare. Quindi ora che abbiamo chiarito dal punto di vista legale che cos'è un OGM, possiamo rispondere ad alcune altre domande su che cosa non è OGM. Moltissimi, per esempio, mi hanno chiesto dell'amido modificato, spesso si legge nelle etichette contiene amido modificato, e mi hanno chiesto ma è un OGM? Me l'ha chiesto, per esempio, Margaret Oliphant, dice mi è capitato di spesso di trovare fra gli ingredienti di vari cibi la dicitura amido modificato, ma anche Mrs. Branky dice vista un'accesa discussione in casa tra marito e moglie volevo sapere la differenza che c'è tra OGM, amido modificato e olio di girasole alto oleico. Sull'olio di girasole alto oleico ne parleremo una volta in un altro video, è proprio uno di quegli oli che ha subito delle mutazioni genetiche esplicite, questa volta non con delle radiazioni ma dal punto di vista chimico. E così Vittorio Bignami e Federico Ariano che mi chiedono appunto se l'amido modificato è un OGM o no. No, l'amido è una molecola, una molecola non può essere OGM, la O di OGM sta per organismo, quindi in qualche cosa che possiede dei geni, che possiede un DNA. La molecola è una molecola, in particolare l'amido modificato è un amido che ha subito un trattamento chimico per modificare alcune sue caratteristiche, tipicamente per renderlo solubile. Sapete che l'amido normalmente non è solubile in acqua, viene disperso, si può modificare per renderlo solubile. Ultima domanda per oggi, Anni mi chiede se le carotine, quelle piccole, sono OGM. No, neanche quelle sono OGM. Tra l'altro molte di queste carotine piccole in realtà sono carote grandi che sono state ridotte ai minimi termini meccanicamente, quindi buttando via tutta la parte esterna. Ci sono tantissime altre domande che mi avete fatto, in particolare molti si chiedono ma fanno male, oppure ma perché in Italia non si possono coltivare però si possono importare, come abbiamo visto con un altro video. e tantissime altre domande che riguardano brevetti, le multinazionali, i semi sterili e così via. Pian piano risponderò a tutti. Per ora il vostro amichevole chimico di quartiere vi saluta. Ciao!